Musica Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità perché i rappresentanti del forum in difesa della sanità pubblica interverranno al consiglio regionale di giovedì prossimo, è prevista una sospensione dei lavori dell'assemblea per consentire ai rappresentanti del forum di esporre la loro opinione sui nuovi piani operativi e ci sarà, è prevista almeno una grande mobilitazione con pullman che porteranno a Campobasso chiunque voglia partecipare. In apertura Enzo Di Gaetano Piani operativi della sanità andranno in discussione giovedì in consiglio regionale ma non ne parleranno e discuteranno solo i consiglieri. Infatti il presidente dell'assemblea Vincenzo Cotugno ha previsto una sospensione dei lavori per dar modo ai rappresentanti del forum in difesa della sanità pubblica di intervenire al dibattito. A tal proposito sono stati anche organizzati dei pullman per permettere di raggiungere il consiglio regionale a chiunque voglia partecipare. Noi ci siamo costituiti come comitati, associazioni, sindacati liberi cittadini in questo forum in difesa della sanità pubblica. Abbiamo deciso che bisogna cominciare ad agire per arginare questa deriva in cui ci sta portando l'attuale presidente della regione e quindi approfittiamo della data di giovedì perché in quella data alle 9.30 ci sarà questo consiglio regionale che discuterà i piani attuativi. Noi dovremmo avere uno spazio per partecipare, si interromperà il consiglio e sembra che ci sia la possibilità di partecipare e presenteremo una nostra controproposta mostrando tutti i difetti di quella presentata dal presidente e tutti i pregi di quelli che noi riteniamo necessari, un piano necessario per mantenere la sanità pubblica per la gente ed essenzialmente gratuita. Ecco, noi questo vogliamo e vi invitiamo tutti a venire con noi a Campobasso. Per chi volesse venire da Isernia mettiamo a disposizione anche dei pullman, quindi se ci sono adesioni che possono arrivare presso la struttura dell'ospedale oppure presso la struttura di quello che è il nostro forum che adesso pubbliceremo, automaticamente daremo la possibilità a tutti di venire in quel della sede. Come si chiama il forum, Pastore? Forum in difesa della sanità pubblica. Cambiamo argomento. I lavoratori della GAM si sono riuniti in assemblea con i sindacati e hanno stilato un documento al termine dell'incontro. Hanno annunciato la mobilitazione senza risposte concrete da parte della Regione e di Paolo Frattura. Riteniamo gravissimo l'abbandono, il silenzio della politica e delle istituzioni regionali sulla vertenza. Ce ne parla Tonino Danese. Nessun lavoratore rimarrà indietro. Sono le parole che il governatore Frattura utilizzò riferendosi alla vicenda GAM. Parole che gli stessi lavoratori insieme ai sindacati non hanno dimenticato in questi tre anni in cui l'azienda è rimasta ferma, ritenendo gravissimo l'abbandono e il silenzio della politica e delle istituzioni regionali e nazionale sulla vertenza. Lo hanno sottolineato ancora durante l'assemblea Boiano. A dichiarazioni di intenti sul rilancio non sono seguite proposte concrete, hanno detto, e senza idee e programmazione di rilancio si rischia di compromettere anche il percorso sul decreto ministeriale che avvia le procedure per il riconoscimento dell'area di crisi complessa, ottenuto anche grazie alla nostra mobilitazione. Un ritardo gravissimo a cinque mesi dalla firma del decreto, hanno spiegato sindacati e lavoratori e non conosciamo alcuna strategia che individui priorità e campi di azione. Frattura, passi a una fase operativa che definisca un piano di rilancio della GAM e della filiera avicola, periodo di ristrutturazione della GAM e possibili percorsi di accompagnamento alla pensione per i lavoratori più anziani. In assenza di riscontri e soluzioni l'assemblea ha annunciato una nuova mobilitazione con presidi davanti le sedi di regione e giunta e una risposta. Lavoratori e sindacati la aspettano già venerdì quando saranno davanti a Palazzo Vitale ed è previsto un incontro con frattura. È partito a Larino il processo a carico di Don Marino Genova, l'ex parroco di Porto Cannone che deve rispondere di abusi sessuali su una minore. Il dibattimento è stato rinviato al prossimo 19 luglio quando tra i primi testi ad essere ascoltati ci sarà proprio la presunta vittima. Sentiamo Manuela Iorio. È partito oggi a porte chiuse il processo a Larino a carico di Don Marino Genova, l'ex parroco di Porto Cannone che deve rispondere di abusi sessuali su un minore. La vittima si chiama Giade e da quando aveva 13 anni ha subito le violenze del sacerdote. Fino ai 16 anni quando ha trovato la forza di reagire raccontando tutto a una corista che ha riferito la ghiacciante storia a Monsignor Gianfranco De Luca. È stato proprio il vescovo a prendere i primi provvedimenti sospendendo a Divinis il sacerdote che improvvisamente lasciò il paese. Era novembre del 2012, oggi per la prima volta dopo più di tre anni Giada ha rivisto in tribunale Don Marino. Per quasi un'ora il tempo tecnico dell'udienza sono stati nella stessa stanza. Pochi metri a dividerli, gli sguardi inevitabilmente si sono incrociati. Non è stato facile per lei che oggi a vent'anni studia pianoforte al conservatorio e cerca di rifarsi una vita. È stata un'udienza tecnica in cui il Collegio di Giudici Tutte Donne, presieduto da Maria Paola Vezzi, ha ammesso i testi delle parti e rinviato l'inizio del dibattimento al 19 luglio quando saranno ascoltati otto testimoni del PM, tra cui anche Giada, difesa d'Arturo Messere. L'avvocato il prossimo 2 febbraio dovrà discutere davanti al giudice anche l'opposizione presentata contro il PM Venturi, che aveva stralciato il fascicolo sugli abusi nella parte in cui Giada aveva superato i 14 anni, ritenendo che da quel momento in poi subentrasse il consenso dell'adolescente, tesi ovviamente fortemente contestata dalla parte civile. La storia di Giada all'epoca fece molto scalpore. Il paese in un primo momento si schierò a favore di Don Marino, accusando Giada di essersi inventata tutto. Dovette intervenire lo stesso Vescovo. Un'ulteriore violenza per la ragazza che è riuscita ad andare avanti a superare le cattiverie e le maldicenze. Del suo caso si interessarono anche le Iene con Giulio Golia, che la intervistò proprio a Portocannone. C'è stato un incontro infuocato questo pomeriggio nell'aula consigliare del comune di Campobasso tra il sindaco e un nutrito gruppo di genitori degli alunni della primaria di Via D'Amato. Al centro della discussione la sicurezza dell'edificio che ospita la primaria è la scuola dell'infanzia Nina Guerrizio. Il sindaco Battista ha chiarito che la struttura è stata sottoposta a interventi di miglioramento sismico e superato anche il successivo collaudo. Dunque, a giudizio dei tecnici, la scuola può rimanere aperta. Di contro i genitori che da venerdì scorso non mandano i figli a scuola hanno chiesto di poter visionare tutto il carteggio e al rinvio a domani della consegna dei documenti da parte della struttura. I toni della polemica si sono alzati al punto che il sindaco ha abbandonato l'aula visibilmente contrariato. Dunque, ogni decisione rinviata a domani quando i genitori entreranno in possesso della documentazione richiesta. E sempre a Campobasso il Movimento 5 Stelle ha ampliato il raggio della sicurezza a tutti gli edifici pubblici e non solo sulle scuole. La proposta dei consiglieri comunali è quella di destinare un cospicuo finanziamento alla sistemazione antisismica. All'incontro a Palazzo San Giorgio c'era per noi Anna Maria Di Matteo. Lo sciame sismico che nei giorni scorsi ha creato allarme tra i cittadini della provincia di Campobasso ha riproposto il tema della sicurezza degli edifici privati ma soprattutto pubblici. I consiglieri comunali di Campobasso del Movimento 5 Stelle considerano prioritari gli interventi sulle scuole e sulle altre strutture pubbliche, tra cui gli ospedali, per ridurre quanto più possibile il rischio sismico. Ma il problema è soprattutto di natura finanziaria. Occorrono risorse. Non vogliamo fare nessun tipo di strumentalizzazione, però dobbiamo decidere una volta e per sempre se vogliamo andare in quella direzione, cioè della prevenzione sismica, del rischio sismico. Allora abbiamo chiesto, lo diremo a gran voce, stiamo cercando di interessare sia i parlamentari nazionali che quelli europei per tentare una rimodulazione generale di tutti quei fondi, facendo chiaramente delle priorità, che riguardano magari opere infrastrutturali che non sono prioritarie. Quindi io mi aspetto perché il problema non è, come diceva lei, soltanto dell'edilizia scolastica ma anche delle strutture sanitarie. Ricordo le condizioni del Cardarelli, ricordo gli edifici strategici ed infine ricordo anche l'edilizia privata. L'edilizia privata è un altro tema da interessare. C'è un provvedimento governativo che va in quella direzione. Speriamo come comune nel nostro piccolo di poter dare una mano anche alle imprese edili proprio per questa attività di recupero. Però chiaramente noi vogliamo, come Movimento 5 Stelle, partiamo da qui perché l'ultima scossa purtroppo c'è stata qui. Vorremmo porre l'attenzione sul governo anche nazionale per andare finalmente in quella direzione. Magari abbandonando, non so, la tangenziale Nord sarà chiaramente dispiace, però immagino che sia prioritario investire nell'edilizia e nella prevenzione del rischio sismico e non su un'opera che in qualche modo serve a poche persone. In questi giorni tiene banco la vicenda legata alla sicurezza delle scuole della città con il caso delle primarie di Via Crispi e Via D'Amato. È giusto che i genitori si preoccupano e chiedono soluzioni. Quella tampone di questi giorni, parlo di Via Crispi ma non è solo quella l'attenzione, quella tampone su Via Crispi chiaramente è una soluzione che non può durare nel tempo. Dieci giorni passeranno e dovremmo poi capire che cosa succederà. Noi quello che chiediamo è che venga realizzato subito un polmone su moduli prefabbricati ad uso didattico che può essere realizzato in pochissimi giorni e ciò consentirebbe il normale proseguo dell'attività didattica senza ulteriori disagi. Noi chiediamo che l'amministrazione riavvii immediatamente i cantieri sospesi senza alcuna ragione evidente di Via Berlinguerra e Via Sant'Antonio dei Lazzari che potrebbero essere portati a termine in pochi mesi e consentirebbero a settembre di riprendere la normale attività didattica in scuole normali. Aggredì un barista e il suo cliente di un locale sul lungomare nord di Termoli provocando lesioni permanenti al volto dello sfortunato avventore colpendolo con un bicchiere e senza alcun motivo. Per un giovane di 24 anni di Termoli con precedenti penali è scattato l'arresto con le accuse di percosse e lesioni personali gravi. Gli agenti del commissariato termolese hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Larino su richiesta del PM Luca Venturi. I fatti risalgono al 21 giugno scorso. Le indagini svolte dal commissariato hanno consentito di identificare il 24enne e di raccogliere gli elementi necessari per l'accusa in giudizio. Ora è rinchiuso in carcere a Larino. Dall'Assemblea regionale dell'ACEM, l'Associazione dei Costruttori e Dili Molisani, arriva la denuncia. La regione ha ricevuto 26 milioni di euro dal governo ma non paga le imprese, ha detto il presidente Corrado Di Niro. Presto i decreti ingiuntivi ha aggiunto. Sentiamo ancora Tonino Danese. L'emergenza del blocco dei pagamenti alle imprese per la ricostruzione e per altri appalti dai dissesti ai fondi in perenzione, argomento su cui l'ACEM, l'Associazione Costruttori e Dili Molisani, si è confrontata. In assemblea una situazione grave quella che riguarda il settore, ha denunciato il presidente degli edili, Corrado Di Niro. La regione ha ricevuto dal governo a fine dicembre una tranche di 26 milioni di euro per la ricostruzione ma la somma ancora non viene liquidata alle imprese allo stremo. A fine agosto, principi settembre è stata liquidata la quarta tranche alle imprese. Di lì c'è stato detto dal presidente, iniziate i cantieri, cominciate, lavorate, così appena rendicontiamo avrete il pagamento. Bene, noi ci abbiamo messa tutte, siamo ripartiti, nell'arco di due o tre mesi abbiamo rendicontato altri 26 milioni di euro e da informazioni assunte a fine anno sono arrivati questi 26 milioni di euro alla regione Molise. Adesso non capiamo cosa c'è alla base, non capiamo il perché le imprese non vengono pagate, di voci ce ne sono tante in giro, si parla di tappare un buco a destra piuttosto che a sinistra di questo bilancio regionale. Noi chiaramente nel merito non vogliamo entrare perché non è il nostro compito, però abbiamo chiesto e abbiamo invitato il presidente di fattura a venire in questi giorni in associazione in maniera tale da poter chiarire alle imprese come sta la situazione, ma certamente dare anche delle garanzie affinché questi mandati, questi stati di avanzamento, vengano pagati alle imprese. Di qui la decisione con delibera unanime dell'Assemblea dell'ACEM. Di effettuare delle rivalze giuridiche nei confronti delle stazioni appaltanti perché riteniamo di dover coinvolgere anche le stazioni appaltanti, faremo degli atti di diffide messe in mora delle stazioni appaltanti, ogni impresa farà questo. Di riflesso è la regione, noi non abbiamo un contratto giuridicamente vincolante con la regione, bensì con il comune, con il soggetto trattatore, con il presidente del PEU, con le province, insomma, che di riflesso vivono di finanza derivata da parte della regione. Abbiamo l'impressione che Frattura non sia attento alle richieste più volte avanzate dalla nostra associazione, ha detto di Niro, né alle reali istanze del territorio. Non vediamo questa attiva partecipazione da parte del presidente, quindi anche questa volta lo invitiamo in associazione per discutere anche di questo problema. Ci sono novità in vista per la galleria di Belmonte del Sannio, chiusa al traffico da quasi nove mesi. È atteso infatti a giorni il via libera del Ministero alla riprogrammazione di un finanziamento che consentirebbe di dare il via ai lavori di messa in sicurezza. Ma i pendolari che ogni giorno sono costretti ad affrontare i percorsi alternativi sembrano aver perso ogni speranza. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Ancora pochi giorni e avremo il via libera dal Ministero delle Infrastrutture per intervenire sulla galleria di Belmonte del Sannio. La rassicurazione arriva da Lino Mastronardi, l'ex dirigente della provincia di Sernia che oggi collabora con la regione. Sarà la volta buona? Studenti e lavoratori che ogni giorno fanno la spola tra Alto Molise e Abruzzo lo sperano e se lo augurano anche coloro che necessitano di cure all'ospedale Caracciolo o di fare la spesa ad Agnone, punto di riferimento per tutti i paesi della zona. I precedenti non sono tuttavia incoraggianti. Nemmeno un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle e l'intervento di striscia la notizia sono riusciti nell'intento di sbloccare una situazione ai limiti dell'incredibile. Per quel piccolo intervento di messa in sicurezza occorrono poco meno di 200.000 euro, ma tra un palleggio di competenze e l'altro non si riesce ad arrivare al dunque. I primi di dicembre l'assessore regionale alla viabilità, Pier Paolo Nagni, aveva assicurato all'inviato di striscia la notizia che nel giro di un mese il problema sarebbe stato risolto. Di mesi ne sono passati quasi due, ma non si è registrata alcuna novità di rilievo. Noi siamo pronti, ripetono fino alla noia i tecnici dell'ente di via Berta, ma non possiamo assegnare lavori perché prima la regione deve sottoscrivere l'accordo di programma quadro con la relativa copertura finanziaria. La regione a sua volta aspetta l'ok del Ministero. A giorni il via libera dovrebbe arrivare, almeno così ha detto Mastronardi, che però pone un'altra questione. A suo avviso il problema riguarda l'intero tratto. Anche la tenuta del viadotto è infatti a serio rischio. Per questo il dirigente si augura che la strada torni a essere gestita dall'ANAS. Un ragionamento condivisibile, ma la priorità ora è rappresentata dalla galleria. Ciò nonostante, a quasi nove mesi dalla sua chiusura, il problema resta incredibilmente irrisolto. Spacciandosi per un assicuratore, ha tentato di truffare un'anziana donna in strada, ma è stato smascherato e costretto a fuggire. Un uomo di circa 45 anni ha avvicinato una donna di 78 in via Gramsci a Campobasso. Le ha detto di essere amico del figlio e che quest'ultimo doveva saldare un debito con l'assicurazione di 1.800 euro e che se non l'avesse fatto si sarebbe esposto a gravi conseguenze. Ha anche finto di essere al telefono con lui. La vittima del raggiro si è però insospettita notando una certa titubanza dell'uomo nel passargli il cellulare e a quel punto ha avvisato la polizia e anche suo figlio. Il truffatore scoperto è dunque fuggito. L'episodio, fanno sapere dalla questura, rappresenta una positiva conferma dell'utilità della campagna di sensibilizzazione e informazione che la polizia del capoluogo sta portando avanti sul tema con la disponibilità e sensibilità anche di tutti gli organi di informazione. Continua la mobilitazione contro il permesso di ricerca del petrolio concesso davanti alle isole Tremiti. La società che l'ha ottenuto è piegata da debiti e rischia il fallimento. E allora sentiamo ancora Manuela Iorio. Coordinamenti, associazioni ambientaliste, governatori e parlamentari hanno avviato una battaglia contro il permesso a perforare i fondali marini a largo delle isole Tremiti concesso dal Ministero a fine dicembre alla Petrol Celtic. La società irlandese già qualche anno fa ci aveva provato ed era stata fermata dai ricorsi. Poi ha ripresentato nuovamente domanda spostando di poco con l'area di ricerca, ottenendo di nuovo l'ok dal Ministero, che in cambio chiede meno di 2.000 euro all'anno per i diritti di concessione, poco più di 5 euro per chilometro quadrato. Scontata la polemica che si è sollevata, una vera e propria svendita del nostro mare è stato il commento dei più, ai quali si sono aggiunte le considerazioni sulle stesse condizioni economiche della multinazionale. La concessione estrattiva è stata data alla società Petrol Celtic Italia, controllata da Petrol Celtic International, società quest'ultima quasi sull'astrico, tra debiti e accuse di frode. C'è uno scoperto di 200 milioni di dollari e la liquidità finirà entro il mese di gennaio. A quanto pare, il giorno dopo la firma del decreto ministeriale, la Petrol Celtic ha già iniziato a cercare potenziali acquirenti del titolo concessorio. Il progetto prevede sondaggi in un'area della ricca biodiversità marina, con tecniche che gli ambientalisti considerano devastanti, come le air gun, esplosioni ad aria compressa dannose per l'ecosistema marino e causa di lesioni ai pesci, con perdita dell'udito e dell'orientamento. Secondo diversi esperti, per esempio, lo spiaggiamento dei capodogli a Punta Pene nel settembre 2014 potrebbe essere stato causato proprio da questa tecnica, che produce un rumore fortissimo che spaventa e disorienta i cetacei. La battaglia per fermare tutto è solo all'inizio. La Corte Costituzionale ha pochi giorni fa dichiarato ammissibile il quesito referendario che permetterà ai cittadini di esprimersi per evitare che permessi già accordati entro le 12 miglia dalla costa possano proseguire anche oltre la scadenza. Bisogna però andare avanti e per questo sei regioni, tra cui non compare il Molise, si preparano a proporre un conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento, che ha bocciato gli altri due referendum sulla proroga delle concessioni e sul piano estrazioni. E ci saranno anche i presidenti delle province di Campobasso e Isernia, Rosario De Matteis e Lorenzo Coglia. La manifestazione contro le trivellazioni in Adriatico in programma affoggia il prossimo 31 gennaio. Il sabato al Pertini, un progetto che l'Istituto Superiore di Campobasso, Sandro Pertini, porta avanti già da qualche anno. Un modo innovativo di fare formazione. Protagonista questa volta Sabrina Lembo, autrice Campobassana, con la sua raccolta di poesie attraverso. C'era per noi Patrizia Testa. Trasformare in versi i pensieri e le emozioni, la poesia, una forma d'arte antica, un modo per leggere ed interpretare la realtà, un mezzo di denuncia sociale, parole in rima per tenere viva la memoria. Il componimento poetico, in tutte le sue sfaccettature, è stato protagonista all'Istituto Sandro Pertini di Campobasso. Sabrina Lembo, poeta e scrittrice campobassana, ha presentato Attraverso il suo ultimo lavoro, una raccolta di poesie raccontate e recitate in un'aula gremita di ragazzi. La raccolta Attraverso descrive attraverso quattro sezioni delle sensazioni e delle emozioni che provo, guardando e osservando la realtà che mi circonda. E attraverso questo gioco di parole attraverso, conduco il lettore in una sorta di cammino interiore, partendo da dei luoghi circoscritti, a me molto cari, via via per indagare i moti più interiori dell'anima e soffermarsi quindi su dei temi più esistenziali. Quest'iniziativa fa parte di un progetto intrapreso dalla scuola già da qualche anno, che prevede l'abbinamento di un approccio didattico più innovativo a quello classico. La scuola deve essere a passo con i tempi, devono appunto i ragazzi assolutamente ricevere degli stimoli dall'esterno, confrontarsi con la realtà perché loro saranno cittadini, cittadini futuri, quindi devono sapere come è fatto il loro mondo, conoscere. Spesso noi invitiamo anche persone appunto molisane, campobassane che appunto hanno avuto poi successo fuori, anche appunto la nostra scrittrice ospite di oggi Sabrina Lembo o come è successo qualche settimana fa con un astrofisico di origine molisana che insegna negli Stati Uniti, per far capire che appunto il mondo non è confinato appunto alla nostra scuola, alla nostra città, alla nostra regione. Loro dovranno essere cittadini del mondo. Uno spazio tutto dedicato alla letteratura, alla scienza, allo sport, alle canzoni e alla musica, un'offerta formativa che vuole coinvolgere gli studenti utilizzando metodologie meno tradizionali e sviluppando temi di grande rilevanza sociale tra le nuove generazioni. Gestione dello stress e terapia biointegrata è il tema del seminario organizzato per il prossimo sabato pomeriggio a Bagnoli del Trinio. Dalle 16 le psicoterapeute Carla Ciamarra e Maria Flora Cocco parleranno di cosa è lo stress soffermandosi su diagnosi e terapia. Il seminario è gratuito su prenotazione presso la Domus Medica di Bagnoli del Trinio. C'è stata a Napoli la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo film di Carlo Verdone, L'abbiamo fatta grossa, che uscirà nei cinema di tutta Italia a partire dal 28 gennaio. presentazione che ha seguito come sempre anche Telemolise e c'era per noi Valeria Farina. Un tradimento, un detective, un attore di teatro e una valigia piena di soldi. Un incontro-scontro tra Arturo Merlino, Carlo Verdone e Iuri Pelagatti Antonio Albanese che avviene tra momenti di sas, pensazione noir e tanta comicità. L'abbiamo fatta grossa, è un film che sa di roccambolesco e che rivolge uno sguardo alla società piena di vizi, di fraintendimenti e di problemi raccontati nonostante tutto con un tono ironico e divertente. È una commedia scritta in piena fantasia cercando di non ricalcare alcune tematiche che avevo fatto negli ultimi film. È un incontro, io volevo fare un film con un altro bravo attore. Io ho scelto Antonio Albanese come mio partner. È un film dove c'è anche un po' di suspense e soprattutto c'è una grande recitazione tra me e lui. Questo è il punto di forza del film. Una prima volta, quello di Antonio Albanese al fianco di Carlo Verdone, capitata un po' per caso e che da subito ha riscosso grandissimo successo, scoprendo complicità intesa e sintonia perfetta tra i due artisti. È stato dal primo incontro, grazie alla sua disponibilità e alla sua umiltà, un incontro piacevolissimo e felice perché ogni giorno poi potevamo inventare e io potevo con lui, nel suo laboratorio, inventare, sviluppare e nobilitare tutto quello che era stato scritto. Secondo me ci siamo riusciti. È stato talmente gioioso e felice che il mio pensiero è quello di ritornare a bissare questa esperienza. Prodotto dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, l'abbiamo fatta grossa il venticinquesimo lavoro che vede Carlo Verdone nelle vessi di attore, regista e sceneggiatore. Carlo ha scritto una storia fantastica ed era una storia a due, è una storia a due. Quindi a un certo punto lui ha voluto mettersi vicino a un attore così completo, così straordinario, così comico, così autoriale come Antonio Albanese per fare un qualcosa di importante ma che fosse anche di estremamente divertente per il pubblico di tutta Italia. Questo film è un film di coppia, un film straordinario, un film divertentissimo, ci è voluto molto per metterlo in piedi ma crediamo fermamente, mio figlio e Dio, che Carlo Verdone e Antonio Albanese hanno creato una nuova tipologia di coppia fortissima per il cinema. Il film esce nelle sale cinematografiche di tutta Italia giovedì 28 gennaio. L'abbiamo fatta grossa, fidatevi. Grossissima, ci sarai anche tu comunque. E vi saluto e vi bacio un bel po'. Saluto a tutti. Divertimento assicurato allora con l'abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone e il nostro telegiornale termina qui. Lì c'è prima però una notizia di servizio e cioè l'open day previsto domani pomeriggio a partire dalle 16.30 nella scuola elementare di Mascione a Campobasso che fa parte della Montini. Alunni e insegnanti illustreranno l'offerta didattica dell'istituto dove ci sono tanti laboratori anche di musica e di inglese. Termina qui. L'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie perché scegliete Telemolise. Buonanotte. Grazie. Grazie.